Io che quest'anno ha come tema l'opera del castigo e vorrei così, in introduzione, consegnarvi alcuni spunti che sono scaturiti un po' anche dalla storia, essendo la quarta edizione, dalla storia di queste summer school ma anche dalla sperimentazione che abbiamo messo in atto, sperimentazione didattica, che abbiamo messo in atto quest'anno con i nostri studenti. La prima cosa comunque che volevo dire è che questo nostro radunarci è sempre connotato da questa nota di gioia e io appunto ieri mi interrogavo a riguardo di questo, che cosa sia questa zona e io penso che scaturisca dal fatto di poter investire proprio anche nel bel mezzo dell'estate tempo ed energie per lo studio e per la formazione e nel poter incontrare persone, perché vedrete questi giorni, offriranno tante occasioni di incontro e persone appassionate alla ricerca, nell'ambito umanistico. Volevo in particolare segnalare, dovrei segnalare tante persone, ma in particolare volevo segnalarne due ed è Irina Nicolaevna, quindi prima fila, che è questa insegnante russa che noi abbiamo avuto occasione di conoscere l'anno scorso, quando siamo andati a Staraia Russa, alle letture giovanili che ormai da 18 anni lei e la professoressa casattina organizzano. Ma anche volevo segnalare la professoressa Caluso, che è docente di letteratura russa e cattolica di Milano, che è là dietro, che è stata incuriosita da questo nostro esperimento, speriamo di non deluderla. Quindi ritorno sul fatto della gioia, che però non può non essere anche inserita in questo scenario drammatico di quello che sta succedendo nel mondo. Sicuramente questo ci costringe ancora di più a interrogarci sul scopo del nostro lavoro. Perché evidentemente, se fossimo semplicemente un'elite di gente che così coltiva questi interessi letterari, in uno scenario come questo, non so che risposte potremmo offrire. Comunque, riguardo allo scopo del nostro lavoro, sin dall'inizio noi abbiamo avuto proprio la percezione della portata universale e del metro di lettura a cui la professoressa casattina ci sta introducendo. Ci siamo resi conto che da uno sguardo autentico sulla cultura, cioè anche sulle voci dei grandi, quindi uno sguardo autentico e un dialogo autentico con le voci dei grandi che ci provengono proprio dal passato, dipendono proprio tutto l'esserci e l'agire umano nel mondo. e quindi anche la possibilità di una costruzione sociale nuova, di una scuola nuova. E quindi le risposte che noi sapremo dare alle sfide del nostro tempo. La sperimentazione in atto quest'anno ha come evidenziato alcuni nodi cruciali a riguardo della letteratura e dell'insegnamento della letteratura. Il primo nodo cruciale è questo, cioè praticamente riguarda il valore che noi attribuiamo alla letteratura e quindi alle scienze umanistiche in generale, perché ci siamo resi conto proprio sul campo che o la letteratura è qualcosa di bellissimo, esteticamente da brivido, ma comunque accessorio, oppure è imporsi di un problema. Il posto di un problema arduo è necessario e vitale. E a questo riguardo faccio solo questo piccolo aneddoto. Io quest'anno ho insegnato in una classe, mi sono in un istituto professionale e quest'anno avevo come studenti, degli studenti molto scatestrati, una seconda in diritto meccanico. Alla fine dell'anno, quando volevo dare questo unico compito per l'estate, che era la lettura integrale del diritto e castigo, eravamo lì in questo momento di fine scuola. Loro sanno che a un certo punto si ero fuori una carta in aspeccata, quindi c'erano le patatine, ma si sapeva che sarebbe successo qualcosa d'altro. A un certo punto ho lanciato loro questa sfida, che era immersa dal dialogo con la professoressa Casattina. Il fatto che diritto e castigo mette a tema una questione cruciale, è molto viva e molto sentita dai giovani oggi, cioè come fare con questo mondo ingiusto, se ci sia un'alternativa che per migliorare la vita di qualcuno io debba per forza peggiorare la vita di qualcun altro. Ecco, i miei studenti meccanici, sono molto noti in città e nella scuola per fatti non proprio così come gli anni, quando hanno sentito questo problema si sono accesi a mille e il leader degli scampestrati, ho detto, io leggo quel punto il gioco era fatto. E quindi il valore che noi attribuiamo alla letteratura è una questione cruciale, perché da qui derivano tra l'altro anche tutta una serie di conseguenze, di scelte innovative nel contesto della scuola, che vuol dire ad esempio come noi trattiamo il soggetto, l'autore, come ci rivolgiamo adesso perché la sua voce ci possa veramente raggiungere. Dall'esempio che poi non ha fatto, si capisce che ci raggiunga o meno la sua voce, vuol dire la possibilità che ci raggiunga quel problema. E anche come sollecitiamo il soggetto lettore ad attivarsi proprio nel dialogo. Per concludere volevo con me riportare due note finali, che sono emerse anche queste dalla sperimentazione, sempre nel dialogo con la professoressa, che non rispondiamo. E noi troppo spesso in classe, rispondiamo a delle domande che non si pongono nel nostro far lezione, e invece non rispondiamo alle domande che si vorrebbero, se solo lasciassimo loro la possibilità di raggiungere. Quindi c'è un modo di far lezione che trancia via le domande. interessanti. L'altra nota riguarda appunto chi di noi in prima fila si è trovato a fare scelta un po' controcorrente, innovative. Ci siamo resi conto che tante volte ci blocca una sorta di timore, e c'è il timore di muoverci in un terreno nuovo, che ci fa tante volte scendere a compromessi, e compromessi che poi in realtà non sarebbero necessari. E quindi qui si apre. Colgo l'occasione per dire questo, che con tutti coloro, che hanno partecipato alla sperimentazione, troveremo in questi giorni un momento di dialogo particolare, per far emergere tutti questi problemi. comunque in sintesi il problema finale che si è posto alla fine è quello iniziale. Cioè, se noi vogliamo e sappiamo ascoltare veramente, e cosa significa questo? Penso che non ci sia bisogno di pensare la professoressa casattina, la conosceremo di persona. Io adesso lascio invece un attimo la parola al preside Siena, che è il preside della scuola, capofila di questa rete di questa costituita, promotrice del progetto di mondo parla della sperimentazione didattica. Preside, si si vuole raccomandare? Mi devo? È certo. Nel corso del mio viaggio da Mirandola a Sestora, che ho scoperto essere solo un po' più breve del volo da Mosca a Bologna. E mi sono effettivamente interrogato dopo gli eventi tragici in Nizza, l'evento di questa notte, una situazione di precarietà anche nelle nostre certezze d'Europa. che senso avesse trovarci in questa località, a Meina, certamente favorevole al raccoglimento e allo studio rispetto agli eventi difficili e turbolenti che ci fanno obbligatoriamente riflettere su di noi e sul nostro mondo. E allora, ma non per trovare una risposta positiva in tutto, mi sono reso conto che cercare una chiave di accesso al patrimonio della letteratura, di un grande della letteratura come Dostoievski, significa entrare dentro la dimensione dell'umanità. e del resto cosa altro possiamo fare di positivo se non questo, se non capire l'umanità, se non riflettere attraverso valori profondi della letteratura e come possiamo anche educare i giovani a questa dimensione di umanità. Quindi, in fondo noi investiamo qualcosa di noi e di positivo, non solo per il bene e per il futuro della scuola e anche per migliorare la nostra professionalità, ma in fondo qualcosa di positivo anche in una dimensione così preoccupante, per molti aspetti così tragica, possiamo fare. Quindi credo che il lavoro di questi giorni sia doppiamente importante anche in questa dimensione. Io, insieme ad altri colleghi, alla professoressa Rossi, ci cerchiamo di creare una migliore dimensione organizzativa perché questa esperienza continui a svilupparsi e a crescere. Cerchiamo di dare una dimensione di rete convinti che la comunità degli insegnanti sia davvero una comunità ampia che possa facilmente dialogare a tutti i livelli e proprio sui temi centrali della professione e della professionalità. E questa rete riuscirà a far crescere questa esperienza sempre più, tanto più sarà vostro l'impegno nelle scuole e quanto voi sarete consapevoli che il vostro lavoro fa crescere da una forza anche alla nostra organizzazione. Perché comunque attività di questo tipo richiedono un impegno organizzativo, richiedono anche il riperimento di finanziamenti, insomma tutto quello che consente di fare le cose partendo dalle migliori idee. Quindi io intanto avviandomi a concludere ringrazio ancora una volta Totteana Casatkina e Elena Mazzola per ripetere ancora questo straordinario evento. Abbiamo cercato anche di costruire un'agenda di eventi futuri e naturalmente finisce sempre per essere il più uno a qualcosa e quindi in realtà rischiamo sempre di complicarci la vita però è giusto anche fare questo perché è la dimostrazione che quello che facciamo vale e ci crediamo. Poi faremo il possibile per cercare di fare anche tutte le cose che abbiamo pensato di fare magari non so se in questa occasione poi in questi giorni vi capiterà di parlare. Comunque ecco io vi auguro buon lavoro, proficuo, sono sicuro che lo sarà, considerando i precedenti vi auguro di stare bene in questa località, in questo luogo dove peraltro è difficile stare male. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Grazie mille. Aggiungo soltanto questa nota perché oltre appunto il preside e le scuole della rete evidentemente come chi si è iscritto come voi alla famosa potuto constatare senza il contributo prezioso di un'associazione nazionale e professionale come DS non ho potuto affermi da una cosa che non avevamo avuto tutto fare questo lavoro, perché non mi parevamo anche questo. Grazie mille. Buongiorno, sono felice di essere qui con voi, perichaggo in russi, faccio russi, cimberfiano. Innanzitutto volevo ricordarvi qual è il nostro principio fondamentale che ha espresso benissimo Aliosha Karamazov quando si è incontrato con un ragazzo adolescente difficile, coli a Krasotkin, con un estasiato ma in un tipo di atteggiamento statico che in qualsiasi momento si sarebbe potuto trasformare in nemicizia. in nemicizia. In rispondimento al suo rispondimento che questo ragazzo aveva detto a Aliosha Karamazov, sono venuto a imparare da lei Karamazov. Aliosha risponde, e io da lei. Perciò il principio fondamentale è che siamo venuti qua a imparare gli uni dagli altri. E io in questa prima lezione vorrei non dire niente proprio su quello che riguarda delitto e castigo in sé. Perché durante il seminario, il primo seminario di domani, io vorrei ascoltare quello con cui voi siete arrivati qua dopo aver letto delitto e castigo. senza anticipare niente con le mie osservazioni, con quello che ho da dirvi io. Ma come al solito la realtà ci corregge. E chiaramente dopo quello che è accaduto adesso in Francia, a Nizza... Non è possibile non dire che la cosa fondamentale in delitto e castigo... E perché proprio il diritto e castigo è così importante per noi adesso. Non per noi come insegnanti di letteratura. Come ha detto Cristina, come se avessimo bisogno di qualcosa che abbellisca la nostra vita, che la adorano. Ma per noi proprio semplicemente come persone che vivono qui e ora. Perché è prima di tutto il romanzo che parla del fatto che il sacrificio è la base dell'esistenza umana. Solo che questo sacrificio può essere considerato non da una prospettiva unica. e mi permetto quindi di fare una breve digressione. Perché poco prima di questa nostra scuola ho avuto un dialogo interessante su Facebook. Io su Facebook ho raccontato una storia, una storia breve per cui ve la racconto adesso perché è utile. Ma la domanda che mi interessa è immersa nei commenti a quello che ho scritto su Facebook. La storia che ho scritto è questa, riguarda mia madre che era un alpinista. Una volta ha tirato giù un ragazzino che si era arrampicato su un albero. Cioè, dove si è all'esistenza e dopo non può. Perché? Perché questo ragazzino si era arrampicato e poi da solo non riusciva più a scendere. E in che modo lei l'ha fatto scendere? Gli diceva dove appoggiarsi per riuscire a venire giù. Cioè dove appoggiare ogni volta le mani ai piedi. E quando lui alla fine era già giù lei gli ha chiesto? Quale è il principale alpinista? Le ha chiesto allora qual è la legge fondamentale di un alpinista? Scalalazzo. Scalalazzo. Di uno che si arrampica sulle rocce? Uno scalatore. E lui si è molto concentrato e ha detto muori tu ma salva il tuo compagno. E lei ha detto no. Il principio fondamentale di un alpinista e di uno scalatore è che tu devi sempre avere tre punti d'appoggio. Certo. Il problema è che noi molto frequentemente ci comunichiamo gli uni agli altri e ai nostri ragazzi dei principi bellissimi e molto elevati. Ad esempio questo, meglio che muori tu ma tira fuori dai guai, salva il tuo compagno. Ma ci dimentichiamo di comunicare quali sono le tecniche di sopravvivenza fondamentali per determinate situazioni e determinati momenti. come tra tre punti d'appoggio. Ad esempio quella di questi tre punti d'appoggio. Che sono la base anche per realizzare quei bellissimi principi che noi invece comunichiamo. e nei commenti a quello che ho scritto su facebook una persona mi ha posto una domanda. come sapete in questi commenti su facebook vengono fuori sempre le domande più inattese. e uno mi ha scritto ma perché è vero che agli alpinisti si dice muori tu ma salva il tuo compagno. e questa persona che mi ha fatto la domanda mi ha detto io quando ho cercato di diventare alpinista ha raccontato che un trucco è sempre meglio di due e invece a me era stato spiegato che un cadavere è sempre meglio di due e io ho risposto sì è assolutamente vero un cadavere è sempre meglio di due il problema è come tu decidi di chi deve essere il cadavere perché lui questa persona stava parlando con me e io sono figlia di un alpinista che è morto in montagna in montagna per perché di cadavere non ce ne fossero quattro ma uno cioè tutti i compagni che erano incordati con mio padre sono rimasti vivi quello che stiamo dicendo adesso è in modo più diretto innesso con delitto e castigo perché perché Raskolnikov è assolutamente convinto che perché Sonia dice lei è come me lei deve essere così come sono io dice lui perché anche lei ha ucciso lei ha ucciso se stessa non importa comunque ha ucciso e invece questo è molto importante perché uccidere un altro bumps ah gli uccidere per ンナ e quindi gli uccidere a gli uccidere a dopo le sforze a Sacrificare l'altro perché il cadavere sia uno, non il tuo è un principio che è il principio degli animali di per sé. O perlomeno è un principio di cui ci è stato parlato e ci hanno raccontato raccontandoci del mondo animale. Perché anche nel mondo animale di per sé non è affatto sempre così. Ma il principio di sacrificare invece non l'altro ma se stessi, perché gli altri rimangono in vita, è un principio divino. Ed è quello di cui ci ha raccontato Cristo sulla croce. Cioè il sacrificio c'è sempre. Ma se noi sacrifichiamo l'altro. Anche pur pensando a uno star bene, a che siano bene tutti gli altri intorno. questo è un qualcosa che ci avvicina alla condizione degli animali più basso. mentre a noi è mostrato un altro principio, che è quello che avvicina la condizione umana alla condizione divina. Cioè per fare qualche cosa, operare qualche cosa nel nostro mondo, con il nostro mondo, noi abbiamo solo una possibilità. Se seguiamo Cristo. Ed è quello di sacrificare se stessi. E questo è sempre un criterio. Perché non appena, per qualsiasi cosa assolutamente buona e meravigliosa. Noi ci troviamo a dover sacrificare qualcun altro, ma non noi stessi. Significa che non è vero niente. Il criterio è di per sé molto semplice. E' un criterio molto semplice, la ragione per cui non l'abbiamo ancora iniziato a usarlo. Non ha niente a che fare con problemi di comprensione o di logica. Ma con che cosa ha a che fare? Probabilmente ne parleremo leggendo, lavorando sulle letture del romanzo. Ecco, senza dirvi questo, non ho potuto fare a meno di dirvi questo in questa breve premessa, introduzione. Alla luce di quel significato inatteso in più, dato dal fatto che la scelta che abbiamo fatto di leggere proprio questo romanzo, in quei condizioni che ci toccano ogni giorno. Ora passo a parlare della questione della metodica e della metodologia. Cioè dei principi e delle tecniche di analisi che noi utilizziamo, applichiamo nella nostra lettura da soggetto a soggetto. di questi principi e di queste tecniche noi ne abbiamo in un modo o nell'altro, è il quarto anno che ne parliamo. Ogni volta emerge che troviamo qualcosa di nuovo, qualcosa di aggiunto rispetto a ciò che già sappiamo. Ora rispetto al problema dell'insegnamento della letteratura nelle scuole, che come ho scoperto oggi in Russia è un problema molto più grave rispetto alle condizioni in cui vi trovate ad affrontarlo in Italia attualmente. Perché io oggi ho capito che in Italia sta accadendo il paradiso, è iniziato il paradiso. E già dal 2010 vi è stato offerto questo paradiso ma voi avete paura di usarlo. Perché adesso da voi all'inizio dell'anno l'insegnante può proporre il suo programma. E quando ci sono gli esami, l'esaminatore esterno, il membro esterno deve fare le domande agli studenti rispetto al programma proposto dall'insegnante. E quindi avete anche la possibilità di scegliere tre opere da leggere durante l'anno, e di leggerele durante tutto l'anno. E appunto l'esame per i ragazzi sarà proprio su quelle tre opere che voi avete analizzato. Sì, questo è davvero un miracolo. Questo praticamente è davvero un miracolo. E l'ultimo è che è un miracolo perché ci dà una possibilità assolutamente reale di usare quel metodo che qui stiamo imparando a capire e a usare. È chiaro che può anche accadere che come risultato di questo lavoro, dopo che l'esaminatore esterno farà le sue domande ai ragazzi, dal tipo di domande dell'esaminatore i ragazzi possono dirvi abbiamo letto un libro diverso. Perché l'esaminatore molto spesso può fare le domande che nascono dalla sua visione dell'opera che è un po' antiquata rispetto al lavoro che state facendo. Sì, e quello che, in effetti, ha imparato, come giusto, non solo da un tex, ma da un po' di usare. E le sue conoscenze rispetto all'opera molto spesso possono anche essere presi dai manuali e non dalla lettura approfondita del testo stesso. Perciò io vi darei questa raccomandazione di consigliare a questo esaminatore di rileggere i testi che avete messo nel vostro programma prima di fare l'esame ai ragazzi. Capisco che è un po' una cosa sfacciata dire una cosa così da parte mia come da parte vostra lo sarebbe. Ma io penso che poi loro stessi potrebbero capire che si tratta di un consiglio che va nel loro interesse. E in ogni caso io penso che con modestia, con umiltà, provare a dirlo si possa. Ma la cosa fondamentale è che grazie a questo io ho sentito, ho provato la speranza che anche in Russia le cose terribili del sistema di Bologna prima o poi verranno superate. E quindi rispetto a questo bellissimo nuovo sistema è utile che noi ci ricordiamo a che cosa servono di per sé il perché delle scienze umanistiche. E qual è la differenza, cosa implica la presenza delle scienze umanistiche dentro qualsiasi percorso di formazione? Perché la questione per molto tempo si è sviluppata in tal modo che le scienze umanistiche sono state inserite e insegnate dentro il processo formativo allo stesso modo in cui vengono insegnate le scienze specialistiche. Le scienze umanistiche comunitarie отличiano da un'assolutamente fondamentale. Il tratto distintivo assolutamente fondamentale delle scienze umanistiche è questo. Tutte le altre scienze, qualsiasi altra scienza, va a formare una regione assolutamente particolare, specifica della nostra conoscenza. Mentre le scienze umanistiche non hanno lo scopo di andare a formare una zona specifica della nostra conoscenza. E quando noi cerchiamo di organizzarle, di costruirle secondo invece questo principio, di considerarle una regione specifica della nostra conoscenza, i nostri studenti, i nostri alunni, che sono normali e non sono ancora corrotti, smettono di capire a cosa servono loro le scienze umanistiche. Perché le scienze umanistiche esistono per formare l'uomo in sé. Quello che ci fa perdere la direzione è il fatto che noi usiamo la parola scienza. Già ho la parola scienza. Perché se tornassimo alle denominazioni originali, filosofia, filosofia, filologia, ci vediamo che sono i nomi che si formavano su basi completamente diverse, fondamenti completamente diversi. è l'amore per la parola, filosofia, è l'amore per la sapienza. si formavano, si formavano e sono formate queste parole su un modello completamente diverso. che, in realtà, è presente ancora in una altra parola grieca, filocolia, che, in realtà, si traduce come amore per il bene, per ciò che è la bontà, la bontà, mentre in greco significa letteralmente amore per la bellezza. vera dell'immagine umana. è l'amore per la bellezza vera dell'immagine umana. che avevano tutti lo scopo di formare l'uomo. questo è il modello su cui si sono stati formati i nomi di queste due regioni dell'attività umana, che noi adesso chiamiamo scienze, le scienze umanistiche. ed è questo il nostro chiamarlo scienze che ci fa un po' perdere, per cui ci perdiamo di strada. cioè quando i nostri alunni, che in modo assolutamente corretto, sono preoccupati, si pongono la domanda ma perché mai dobbiamo studiare, quando loro ci fanno questa domanda, che è assolutamente giusta, corretta. perché a questo domanda bisogna rispondere. perché? Perché a questa domanda noi dobbiamo rispondere, è necessario rispondere. l'uomo adesso, nel moderno mondo, ogni minuto sente come si accorcia il tempo della sua vita. perché l'uomo adesso, nel mondo contemporaneo, sente ogni minuto come il tempo della sua vita si è accorciato. è immediato. cioè che non gli è rimasto, non gli rimane tempo per fare qualcosa che non abbia la risposta alla domanda su perché lo deve fare. se noi a questa domanda rispondiamo, devi studiare la storia della letteratura per essere una persona erudita, per essere brillante nei dialoghi, per essere brillante nei dialoghi, per essere una conversazione. insomma, dicendogli che si tratta in sostanza di una decorazione in più, una cosa in più. i nostri alunni faranno assolutamente bene a risponderci. beh, sa, noi abbiamo anche tante altre cose da fare. forse, un secolo fa si poteva incontrarsi in società e parlare di tutte queste cose. si poteva ancora trovare del tempo per questo. mentre adesso la situazione è diversa. e avranno assolutamente ragione a dire così. cioè se noi diciamo che è qualcosa di abbellimento, allora se noi pensiamo così non vale la pena occuparsene. mentre se noi rispondiamo che è per formare se stessi, se è per prendere coscienza di se stessi, allora si tratta di una situazione completamente diversa. perché adesso l'uomo vive in delle condizioni e sono condizioni che sembra che adesso sia la prima volta che si stanno creando. quando da lui necessitano più assosunità che in tutte le precedenti. condizioni per cui all'uomo è chiesta una coscienza, consapevolezza assolutamente maggiore rispetto a quella che gli era richiesta in tutte le epoche precedenti. diciamo che negli precedenti cioè nell'epoca precedente si poteva per un certo periodo di tempo, rispetto al nostro tempo decisamente breve si poteva per un certo periodo di tempo era possibile andare avanti a vivere per un certo tempo senza prendere affatto coscienza. perché c'erano intere generazioni perché c'erano intere generazioni esistevano delle pratiche per affrontare e attraversare la vita che erano state percorse da più generazioni. per dire uno è nato, ha studiato, si è formato, poi è stato stato dato in matrimonio oppure due si sono sposati. si può essere stato dato in modo particolare uno può essere stato dato in matrimonio senza che gli sia stato chiesto in modo particolare il parere? si è stato fatto in matrimonio si è stato fatto in matrimonio si è stato fatto in matrimonio se ci sono stati cristiani poi uno va a servizio da qualche parte o uno lavora come un contadino si è stato fatto in matrimonio si è stato fatto in matrimonio dopo di che fai la famiglia fai i tuoi figli e poi fai crescere i tuoi figli fino a quando loro stessi non possono generare figli in effetti in tutto questo processo era addirittura così che meno tu eri cosciente e meglio era perché era tutto regolamentale e se tu invece ti mettevi a pensare a riflettere troppo su questa regolamentazione potevi trovarti ad avere dei grossi problemi tutta la letteratura europea del XIX secolo è di fatto una letteratura che parla di questi problemi mentre ora noi ci siamo trovati a vivere in una situazione in cui tutte le regolamentazioni precedenti si stanno distruggendo stanno crollando davanti ai nostri occhi noi ci troviamo in un mondo in cui intorno a noi tutto pian piano sta crollando non piano piano ma mano a mano tutto sta crollando e l'uomo si trova costretto ad attivare la sua coscienza a un livello tale che in maniera così voluminosa così possente non gli era mai stato chiesto di attivare non aveva mai dovuto usare così tanto la sua coscienza consapevolezza perché praticamente qualsiasi sua azione prima ogni sua azione era prescritta era regolamentata a priori ora ogni sua azione è il risultato della sua scelta di una sua riflessione di un suo ragionamento e quindi anche è una sua responsabilità personale perché se prima l'uomo agiva secondo un regolamento e se come nel XIX secolo se qualcuno a un certo punto si metteva a parlare del fatto che queste regolamentazioni fossero più o meno giuste cioè si domandava ma non sono giuste queste regolamentazioni e per il fatto che qualcuno iniziava a pensare così la conseguenza era che accadeva una qualche catastrofe radicale allora tu che invece seguivi tutto quello che era regolamentato capivi che con te andava tutto bene che tu seguivi la tua regola e perciò chi era colpevole di tutta quella catastrofe è quel qualcuno che con le sue domande con le sue esigenze incomprensibili aveva... ma il che sicuramente si incontrava e è vero per cui anche quel qualcuno era anche finito male e questa era una cosa giusta cioè... e dentro tutto questo probabilmente anche voi vi sareste sentiti a disagio non particolarmente bene ma perlomeno uno sentiva che di essere nella posizione giusta nel suo diritto adesso invece crolla anche questa percezione del sentirsi nel giusto perché si segue una regolamentazione cioè noi in realtà stiamo attraversando stiamo vivendo in un momento di rivoluzione e noi siamo in prima linea noi nel senso di insegnanti gli insegnanti in questo momento sono in questo momento storico sono in prima linea perché noi siamo persone che siamo ancora stati educati siamo cresciuti nella... dentro la consapevolezza di dover seguire un qualche regolamento e invece dobbiamo immettere lanciare nella vita generazioni che hanno bisogno di una consapevolezza enormemente più grande altrimenti queste persone i nostri ragazzi non avranno nessuna possibilità di sopravvivere nel mondo nuovo che si sta creando, formando adesso intorno a noi per questo le conoscenze umanistiche il sapere umanistico acquisisce un significato immenso in questo momento ma chiaramente non come scienza non come scienza su qualcosa ma come un imparare a essere uomini e adesso vorrei parlare dei nostri rischi l'altra cosa che volevo dire di cui volevo parlare è delle nostre paure perché abbiamo già detto che molto spesso noi abbiamo paura di lavorare con questo metodo da soggetto a soggetto ed è una cosa assolutamente comprensibile si capisce Cristina oggi ha già detto benissimo che noi durante le nostre lezioni molto spesso rispondiamo a domande che non sono state fatte non rispondiamo alle domande che ci vengono fatte ma rispondiamo a domande che non sono state poste ma perché noi rispondiamo alle domande che non ci sono state poste? per una ragione molto semplice perché noi pensiamo di conoscere le risposte cioè noi non rispondiamo noi rispondiamo non a quello che ci viene chiesto o che ci potrebbero chiedere ma rispondiamo ma rispondiamo a quel qualcosa di cui noi già sappiamo pensiamo di saper rispondere pensiamo di saper già le risposte come vedete questo è un processo e allora capite che questo fissa in modo assoluto il processo del lavoro in questa situazione in questa situazione voi non imparerete mai nulla di nuovo sul testo perché la cosa di cui avete più paura in assoluto è le domande inaspettate di cui voi potreste non sapere le risposte da cosa dipende questo innanzitutto secondo me da cosa dipende a cosa è legato in un senso profondo a livello profondo è legato a una nostra auto-identificazione incorretta 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 ok noi считiamo che noi siamo il nostro parere si vede anche nella vita quotidiana io sono quello che io ritengo perciò se tu vai contro quello che io penso quello che io ritengo tu stai andando contro me stai attaccando me perché io sono quello e questa è una cosa che adesso grazie a internet noi possiamo vedere a un livello una quantità enorme ce l'abbiamo davanti agli occhi in modo assolutamente evidente tutti quelli che in internet si chiamano guerrieri santi eh guerrieri santi sono guerrieri sono guerrieri non non ma 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 non bisogna Non riesco neanche a ripetere le parole che normalmente si usano in internet nei commenti. Bisogna spiegare a quella persona che è cattiva in questo, in questo, in questo, in questo. E che non ha il diritto di esprimere certe opinioni, certi pareri. E questo non dipende semplicemente da una cultura bassa di come noi entriamo in rapporto, comunichiamo gli uni con gli altri. Ma è proprio legato a questa falsa auto-identificazione. Perciò quando noi, a lezione, rischiamo di iniziare a parlare di qualcosa che noi non conosciamo, su cui c'è qualcosa che noi non sappiamo, cioè rischiamo di entrare in dialogo, di parlare con il testo, dove possono venirci incontro le cose più inaspettate, e possono venirci incontro cose che distruggono la conoscenza che noi avevamo in precedenza, quello che noi sapevamo prima. E quando noi ci troviamo a essere in una regione, in cui qualsiasi, ognuno, tutti i nostri alunni, possono dimostrarci qualcosa che è un'obiezione a quello che noi pensiamo di sapere, in che modo, basandosi, fondandosi loro sul testo, è chiaro che allora a noi ci viene il terrore, perché noi identifichiamo noi stessi con i nostri pareri, con le nostre opinioni corrette. E la cosa ancora peggiore è che noi identifichiamo noi stessi con l'opinione che qualcun altro ha di noi. Come potrò continuare a vivere se i miei alunni penseranno che io non so quelle cose? Cioè, per entrare su questo nostro terreno, cammino scivoloso, dobbiamo innanzitutto prendere coscienza che questo nostro modo di auto-identificarci non è corretto. E voglio anche dirvi che quando facciamo questo, quando prendiamo coscienza di questo, la vita diventa più leggera, diventa più facile vivere. Perché immaginate che felicità, non siete più obbligati ad avere sempre ragione. Cioè, voi potete trovarvi in qualsiasi momento a non avere ragione. E per voi quello non sarà un momento di umiliante, un momento in cui siete diminuiti. Ma questo sarà un momento di crescita e di sviluppo di voi stessi. Cioè, non prenderete in mano un mitra e inizierete a dire no, in nessun caso non può essere così. Ma inizierete a dire, cavoli, com'è interessante questo. Perché da quel punto puoi iniziare un cammino ulteriore. E la cosa fondamentale è che comportandovi così, per ieri, per ieri, per ieri, per ieri, per ieri, per ieri, per ieri. Voi date un altro orientamento anche ai vostri alunni. Che, anche loro, a volte la lezione è a guardarle molto bella quando gli uni con gli altri litigano e insistono sulle loro opinioni. Cioè, può sembrare una cosa come uno spettacolo, una cosa molto... Ma è una molto buona metodologia della vita. Cioè, sembra una cosa molto viva, no? Ma in realtà è una metodologia di vita molto negativa. E anche una metodologia di lettura molto negativa. E anche una metodologia di lettura molto negativa. Voi, perché... Ma, come solo noi stiamo dicendo che... Sì, io sono... Scusate. Sì, davvero, sei vero. Io non ero vero. C'è interessante. Ma dovremmo vedere cosa iniziamo. Ma appena iniziamo noi a muoverci così, a dire, sì, ho sbagliato. Caspita, com'è interessante questo. Allora, andiamo avanti a guardare cosa succederà dopo. Allora, anche i nostri alunni vedranno all'improvviso nell'esperienza, nella realtà che la persona non è, non coincide con la sua opinione, con il suo parere. Che la persona è qualcosa di completamente altro, diverso. E che il rispetto, la stima della persona non scompare semplicemente per il fatto che una persona in qualcosa ha sbagliato, non ha avuto ragione. Vedendo. La catastrofe è nel fatto che... che la persona inizia, non ha avuto ragione, non ha avuto ragione, non ha avuto ragione. che non sia assolutamente indispensabile essere capace di insegnare. Ma questo principio non funziona nel nostro caso. non ha avuto ragione, non ha avuto ragione. e non ha avuto ragione, non ha avuto ragione, non ha avuto ragione. Non è necessario sapere insegnare, per insegnare. non ha avuto ragione, non ha avuto ragione, non ha avuto ragione. Un insegnante insegna qualcosa che lui stesso non sa fare, e questo è ritenuto la norma. Ad esempio noi possiamo insegnare degli autori, degli scrittori senza essere noi stessi scrittori geniali. Noi insegniamo qualcosa a qualcuno, partendo dal presupposto che noi sappiamo che è una cosa buona, soprattutto nella sfera morale, ma non è affatto obbligatorio che noi stessi mettiamo in pratica quello che insegniamo. Quando noi diciamo a un bambino, a nostro figlio, non dire le bugie, è chiaro che puntini puntini. Con quello di cui stiamo parlando come principio di insegnamento, fare così non funziona. Cioè non fa funzionare il modo in cui stiamo parlando. Perché a che cosa guarderanno gli alunni? Non a quello che voi dite, ma a come voi vi comportate. Voi potete dire 50 volte ai vostri ragazzi che non devi avere paura che hai sbagliato e che qualcuno ti abbia corretto in quello che tu pensavi. Ma se tu stesso insegnante ogni volta salta il tessuto, prendi mano in un mitra per difendere il tuo punto di vista, anche quando è già assolutamente chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Allora i nostri alunni non impareranno a comportarsi secondo quello che voi dichiarate dovrebbe essere il modo di. Cioè qui perché funzioni la cosa, come sempre di per sé nel metodo da soggetto a soggetto, occorre che innanzitutto all'inizio la cosa funzioni in te. Perché i nostri ragazzi, i nostri alunni osserveranno, prenderanno in considerazione non quello che noi diciamo, ma quello che noi mostriamo. E di conseguenza, ecco, qual è il modo di iniziare a non avere paura? E allora potremmo capire che la filologia è questa opera, questa attività collettiva o saborna? Cosa? Noi in italiano lasciamo saborna? Perché ognuno dal punto in cui si trova può vedere qualche cosa che non è accessibile, che non è visibile da nessuno degli altri punti di vista, delle altre prospettive. La filologia è buona per il fatto che questi diversi punti di vista, noi li chiamiamo così nella vita, sono possibili per la verificazione. E' possibile verificarli. Perché in vita, come giusto, noi, oltre a questo, non si trattiamo. Perché? Perché dico, in questo la filologia ha un valore positivo, perché nella vita noi di questo o ce ne freghiamo. Cosa facciamo noi nella vita? Diciamo se uno esprime il suo punto di vista, noi allora diciamo assisto, se sono d'accordo, oppure diciamo, beh, quello è il tuo punto di vista e lasciamo perdere. Mentre nel lavoro filologico noi abbiamo davanti il testo, il testo ci permette di mostrare quello che noi vediamo dal nostro punto di vista. E allora il testo ci permette di vedere tutta l'oggettività di questo sguardo che si crea partendo dai diversi punti di vista, della visione che otteniamo unendo i diversi punti di vista. Perché il metodo da soggetto a soggetto, innanzitutto, non presuppone per nulla la soggettività, il soggettivismo. Proprio per il fatto che noi nel testo abbiamo sempre la possibilità di verificare. Perché il testo non è la sfera, la regione delle mie invenzioni dove io invento l'interpretazione. Ma è un partecipante a tutti gli effetti alla comunicazione, al processo di comunicazione. E ancora vorrei parlare di una domanda che è emersa oggi durante il pranzo. Che è legata all'esigenza che noi abbiamo di dare, di delimitare una concezione integrale finita dell'opera letteraria che abbiamo davanti. E' molto chiaro perché noi abbiamo questa esigenza. Ed è molto chiaro da un punto di vista psicologico. Perché noi facciamo molta fatica a vivere se l'immagine del mondo che ci diamo non è compiuta, non è conclusa. Se lasciamo aperte queste immagini del mondo. Quando nel nostro quadro, nella nostra immagine del mondo ci compaiono dei buchi, noi di solito espandiamo questa nostra immagine, sistemiamo la nostra immagine. La nostra tela, perché questi buchi scompaiono. Cioè, là dove c'era il buchi, da noi diventa un punto cieco. Perché vivere con dei buchi nella nostra immagine del mondo non si riesce, non ci riusciamo, è impossibile. E noi, naturalmente, facciamo la stessa cosa con i testi letterari e artisti. A noi, noi sentiamo la necessità di chiudere, concludere. Sentiamo il bisogno di dire di questo testo abbiamo capito tutto. Perché se non diciamo così, non riusciamo a uscire da quel testo, andare oltre. Io sono un esempio chiaro di questo. Quanti anni della mia vita ho passato con Dostoevsky e non riesco a uscire da nessuna parte. Questa, in qualche modo, è necessaria. 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 Quindi, da un certo punto di vista, questo quadro che si conclude, che si compie, per noi, la sentiamo come indispensabile. bisogna, proprio, capire. E io credo che bisogna raccontare gli studenti. Ma occorre capire, semplicemente, e penso che occorra spiegare ai ragazzi. Perché io, tutto il tempo, in questo momento, e voi capite, perché io insisto sempre e penso che voi ormai capiate perché questa cosa è una cosa buona. Ma non devono usare il metodo come un certo valore che non sa solo per noi, ma più o meno nessuno. Perché Dico bisogna spiegarlo ai ragazzi? Perché non è che dobbiamo usare il metodo noi insegnanti, come una bacchetta magica, che sappiamo noi come funziona, la usiamo solo noi e facciamo noi la magia usando il metodo. E questo non vuole funzionare. Anche perché se noi facciamo così il metodo non funzionerà. Ma noi, al contrario, ogni volta dobbiamo spiegare ai ragazzi quello che facciamo, che cosa accade e perché accade. E notate che gli specialisti amano moltissimo invece quando hanno in mano loro la bacchetta magica. Noi dobbiamo comportarci in modo diverso rispetto a come abitualmente si comportano gli specialisti. Dobbiamo continuamente, per quanto sia possibile, dire tutte le volte esplicitamente dire, bene, adesso noi prendiamo questa concezione dell'opera che è quella che abbiamo sviluppato lavorando insieme e siamo arrivati qua. Consideriamo questo. E noi, davvero, seriamente, onestamente, abbiamo lavorato fino a raggiungere, a vedere questa concezione dell'opera. Ma tenete presente che noi siamo riusciti ad arrivare a formare questa meravigliosa concezione dell'opera molto probabilmente, soltanto grazie al fatto che che una tantissima cosa, tantissimi punti che ci sono... che tutta una serie di punti di questo testo noi li abbiamo esclusi, li abbiamo posti in dei punti ciechi del quadro. Cioè che nella nostra concezione, che noi siamo arrivati a formulare fino adesso, dobbiamo sapere che alcune cose le abbiamo escluse e sono rimaste dei punti ciechi. Si capisce? Si. E solo per il fatto che questi punti ciechi non li consideriamo, possiamo dire che la nostra concezione dell'opera è integrale. Cosa significa? Che non appena voi vi metterete a rileggere quello stesso testo, voi troverete ancora tutta una serie di cose di cui non capirete né perché ci sono né a che scopo. E questo è normale. E questa è una cosa normale. Non è una catastrofe. Viviamo tutti così, di per sé. Ma questo significa che né nella regione della filologia, né nella regione della vita, noi non possiamo mai accontentarci, rimanere soddisfatti di quel nostro quadro, di quella nostra immagine del mondo integrale e non contraddittoria che ci siamo costruiti in quel dato momento. ma dobbiamo sempre capire che in qualsiasi momento possono spalancarsi davanti a noi dei fatti nuovi che prima o semplicemente non ci eravamo imbattuti in questi fatti oppure si trovavano in dei punti ciechi. Se una persona è stata preavvisata di questo, allora con minore probabilità accadrà che quando questa persona si trova a scoprire qualcosa che era in un punto cieco diventa per lui una catastrofe vitale invece di essere al contrario un nuovo punto di partenza per uno sviluppo, per una crescita. Mi sembra che anche solo da quello che abbiamo detto adesso si veda in modo abbastanza chiaro fino a che punto è fondamentale, da un punto di vista esistenziale, è vitale la filologia come disciplina. e c'è ancora una cosa che probabilmente è indispensabile dire in questa lezione introduttiva ed è ripetere ancora una volta quelli che sono i nostri punti di ingresso perché i punti di ingresso nel testo nel testo in generale può essere il testo letterario come il testo della vita e si tratta di quei punti che nella nostra tendenza a orientarci a un quadro del mondo compiuto, chiuso e quindi dentro questa nostra tendenza a orientarci su una concezione del testo che noi abbiamo considerato, vediamo come conclusa, compiuta si tratta di iniziare una catastrofe i nostri punti di ingresso sono proprio quei punti che per noi sono l'inizio della catastrofe cioè, se non si è orientato, è chiaro e sono, in realtà, nuovi punti di visione sono, in realtà, semplicemente dei punti in cui si inizia a vedere qualcosa di nuovo cioè, sono i punti in cui non si capisce, i punti di incomprensione c'è un cavallo che bello e per farvi vedere, proprio toccare con mano, come questo accade penso che dobbiamo rivolgerci velocemente per un attimo al libro di Giobbe che è un po' molto amato dal metropolita Antoni di Giobbe di Suroche, che amava molto citarlo e lo amava molto di per sé c'è un romanzo, il primo romanzo della sua serie in cui, abbracciai a knighi uva dice dicendo quando a voi, nel vostro lamento per la catastrofe che sta accadendo nella vostra vita personale dicono dicono, rispondono guarda l'ippopotamo tutto, in realtà, qualcosa è chiaro proposto evidentemente vuol dire che è saltato qualcosa cioè, manca qualche cosa dentro questo tra il vostro urlare per la catastrofe della vostra vita e la risposta guarda l'ippopotamo e io penso che qui Williams abbia formulato qual è il punto centrale per cui noi non riusciamo a capire, non capiamo il libro di Giobbe perché, di per sé, è vero che tutto il resto ancora, in qualche modo, possiamo spiegarcelo, arriviamo a capirlo ma questo guarda l'ippopotamo come risposta al grido di un uomo che è tutto scoperto di tutte le sue ferite che ha perso tutto ed è rimasto abbandonato in una discarica è una risposta strana è una risposta strana e proprio per questo questo è l'unico punto del testo attraverso cui si può arrivare a capire il libro di Giobbe cioè, per cui noi non riuscire, non riuscire ad queste punti qualsiasi cosa noi spieghiamo senza fare riferimento a questo punto del testo non ci rivelerà per niente il significato del libro di Giobbe nemmeno in una sua qualche parte e vorrei farvi notare ancora una cosa che qui non fa notare Williams ma che imprezziona, ci colpisce non meno di questa risposta che invece ci fa notare Williams guarda l'ippopotamo ed è una cosa ed è una cosa ed è quello che ed è il fatto che a Giobbe questa risposta va bene quindi cioè capisce assolutamente cosa gli è stato risposto e dice si adesso io ti vedo e mi pento mi pento nella polvere e nella cenere cioè lui riceve questa risposta e la capisce e l'accetta lui che non aveva ceduto a tutte le risposte precedenti a tutti a tutti quello che gli amici in modo molto logico gli avevano detto le avevano proposto a tutti e che a tutte anche le loro conclusioni quello che loro dicevano che per noi sono cose assolutamente logiche le loro considerazioni lui continuava a dire no e qui all'improvviso gli dicono guarda l'ippopotamo e lui dice si siete d'accordo che è una cosa strana si ma allora che cosa noi possiamo vedere partendo proprio da questo punto che è assolutamente incomprensibile ma allora che cosa noi possiamo vedere di cosa gli sta parlando il Signore crome cos'altro gli dice oltre a guarda l'ippopotamo gli dice dove eri tu quando io mentre io mentre io ponevo le fondamenta della terra mentre io accendevo le stelle mentre io creavo mentre io mentre io facevo tutto questo cioè che cosa sta dicendo qui il Signore ha Giobbe gli dice gli dice che Giobbe non capisce qual è il progetto del suo lavoro del lavoro di Dio ma allo stesso tempo gli dice in questo progetto del mio lavoro della mia opera e solo per questa ragione io ti parlo di questo sei inserito tu cioè non devi cercare le ragioni di quello che ti è accaduto nella sfera nella regione della tua propria vita perché lì quella ragione non c'è perché quello di cui tu sei trovato ad essere un partecipante un protagonista è un progetto che è molto più grande della regione della sfera della tua vita la supera di molto e la cosa più interessante è che noi possiamo addirittura capire di che progetto si tratta soprattutto se noi mettiamo in paragone questa storia la storia la storia di Giobbe con un'altra delle prime storie delle storie iniziali della Bibbia cioè con la storia di Abramo perché anche con Abramo non si capisce niente perché perché dicono perché per qualche ragione gli dicono vai e ammazza tuo figlio e poi a un certo punto gli dicono non c'è più bisogno è già tutto a posto cosa è successo cosa è stata questa beffa queste due storie le due storie di Giobbe e di Abramo si chiariscono vicendevolmente notiamo che Abramo è l'inizio del popolo ebraico mentre Giobbe è una persona che non ha nessun legame col popolo ebraico non si capisce da dove viene fuori e perché all'improvviso ci si mette a parlare di Giobbe cioè tutto era tutto organizzato bene tutto si svolgeva secondo la storia del popolo ebraico cioè capivamo questa logica e all'improvviso appare questo estraneo Giobbe perché Giobbe è un secondo inizio una seconda possibilità 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 di che cosa? iniziamo da Abramo perché in Abramo è più evidente perché è spiegato da tanto tempo perché è spiegato da tanto tempo che il sacrificio del figlio di Abramo è il prototipo del sacrificio del padre di suo figlio di Dio di suo figlio ma Dio ha creato quella situazione ma non è che Dio ha creato quella situazione semplicemente per creare un qualche prototipo ma per che cosa? ma per cosa? io credo che qui quello che io penso che io presuppongo è che qui si chiarisca il massimo qual è la misura la grandezza umana? perché per il fatto che la storia di Abramo e il suo figlio è stato prototipo è stato possibile per il fatto che potesse diventare possibile quello di cui Abramo e suo figlio sono stati prototipi cioè perché diventasse possibile l'incarnazione di Dio era necessario che l'uomo come misura come grandezza corrispondesse a Dio era necessario che Dio avesse un dove adeguato come grandezza per poter entrare almeno in tanti suoi per poter entrare almeno con quelle sue dimensioni che gli avrebbero permesso di fare quello che era il suo disegno fare sulla terra e e si tratta di due dimensioni la prima dimensione si tratta di che si tratta di sacrificare ciò che per te è tutto ciò che per te è tutto ciò che per te è tutto quello che per te è più di te stesso perché 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 la tua immortalità è se ricordate che quando il Signore promette a Dio Isacco si tratta di che si tratta di la tua discendenza si moltiplicherà di generazione in generazione questo significa che si tratta dell'unica possibilità di esistenza di Abramo dopo la sua morte la discendenza quando una personalità una persona continua nei discendenti e diventa un popolo e tenete presente che oltre a questa possibilità non c'era nulla cioè non c'era una possibilità di immortalità personale della persona al di là di quello allora in Abramo si viene verificata la possibilità dell'uomo di dare tutto e anche più di sé di sacrificare di dare tutto perché affinché Dio potesse entrare in un uomo e compiere la sua missione era necessario che l'uomo avesse questa qualità di dare tutto e più di sé la seconda qualità che era indispensabile a Dio la seconda qualità per incarnarsi è quella che lui trova in Giobbe e di quali qualità si tratta che cosa accade a Giobbe in tutto il corso della sua storia noi risponderemmo semplicemente se non ci disturbassero le stesse domande che sono le domande che hanno avuto con gli amici di Giobbe quando il nemico arriva da Dio e lì ogni volta Dio tradisce Giobbe tradisce Giobbe cioè ну буквально lo mette nelle mani del nemico in questo senso è un tradimento lo tradisce e noi vediamo una successione conseguente di questi tradimenti questa è la storia del tradimento di Dio e in questa storia questa è la storia del tradimento di Dio e in questa storia si tratta la cosa più incomprensibile più incredibile è che Giobbe a cui già dieci volte hanno detto bestemmi a Dio e muori rimane invece fedele a Dio che lo tradisce questa è la seconda dimensione che era assolutamente indispensabile perché fosse possibile si rendesse possibile l'incarnazione di Dio quella di rimanere fedele a chi ti tradisce perché tutta la storia umana che noi conosciamo è una storia di continui tradimenti di Dio ma che come è stato cominciato da la storia del tradimento che è iniziato dal giardino dell'Eden e che è arrivata fino alla crocifissione è una storia di alleanze continuamente strette e alleanze ma anche nel senso di contratti che vengono stretti tra Dio e l'uomo ed è molto interessante perché l'uomo infrange il patto non rispetta il patto e nel primo caso seguono delle sanzioni nel secondo anche se nel primo caso le si possono considerare in modo diverso non proprio sanzioni anche se nel primo caso le si possono anche considerare in modo diverso non proprio come sanzioni ma poi dopo inizia questo che dice beh non hai rispettato il patto allora facciamone un altro nuovo questo patto non l'hai rispettato facciamone uno nuovo cioè Dio rimane costantemente fedele all'uomo che lo tradisce fino al punto della croce quando quando viene tradito e consegnato ai patimenti per tutti da questi stessi tutti e lui rimane fedele a loro a tutti questa è la storia che accade con Giobbe è chiaro che entrare in questa storia sarebbe stato impossibile da qualsiasi altro punto cioè non c'è nel testo nessun altro punto che ci da accesso che sia il barco di accesso ad arrivare a questa comprensione della storia per capire quello che lì è realmente accaduto per capire quello che lì è realmente accaduto per capire quello che realmente accade noi dobbiamo partire da quello che è assolutamente dal punto che è assolutamente incomprensibile da ciò che non capiamo e allora diventa evidente che tutti i nostri tentativi di cercare la spiegazione della situazione che si è trovato a vivere Giobbe dentro la trama della sua vita e anche semplicemente non sono assurde come i tentativi di Iov e anche i nostri amici così come i tentativi di Giobbe e tanto più dei suoi amici ecco voglio dire che tutto quello che ho detto adesso ha un rapporto assolutamente il rapporto più diretto con la struttura di delitto e castivo perchè in delitto e castivo c'è una parte che moltissimi interpreti del testo soprattutto come si diceva di Q2 nel testo di Spastanofi soprattutto quegli interpreti che hanno fatto le versioni cinematografiche o a teatro le versioni artistiche dell'opera cinema hanno preferito eliminare proprio perchè è assolutamente impossibile proprio perchè c'è una parte del testo che assolutamente non si capisce è come si capisce l'epilogo come potete capire è l'epilogo e io voglio dirvi questo che in delitto e castigo l'epilogo ha assolutamente la stessa funzione che ha l'epilogo nel libro di Giobbe in cui ci è detto guarda l'ippopotamo e che ovviamente potrebbero esplicitare per tutto il resto e che uno pensa togliamo questo pezzo almeno se eliminiamo questo pezzo del testo tutto il resto si capisce perchè in tutto il resto una storia che è una storia che è una tragedia non si capisce proprio tutto tutto ma almeno qualcosa si riesce a capire mentre invece qua si arriva a quel punto e non si capisce proprio più niente ma esattamente come senza l'epilogo è impossibile capire il libro di Giobbe delitto e castigo allo stesso modo senza quello che accade nell'epilogo di delitto e castigo è assolutamente impossibile capire quello che accade nel romanzo delitto e castigo è assolutamente impossibile capire quello che accade nel romanzo delitto e castigo ci sono rimaste ancora un sacco di cose che avrei voluto dire in questa lezione ma io capisco che come al solito io prendo troppe cose e che queste cose sono le cose che in principio è logiche e ci si può anche rispettare per l'analisi del преступo e di per sé è anche più logico che questi altri punti arriviamo a osservarli man mano che analizziamo il romanzo perché noi nemmeno ma tutti lavorano tutti gli altri punti che sono elencati come punti di questa lezione non potranno sfuggirsi perché si attivano mentre analizziamo il romanzo e adesso volevo lasciare almeno un pochino di tempo alle vostre domande posso fare una domanda e il sacrificio che ci assimilano a Cristo e il sacrificio che ci assimilano a Cristo e il sacrificio che ci assimilano a Cristo e il sacrificio di qualcun altro perché vive io che è quello che abbiamo visto sempre nelle guerre quando hanno la guerra dove formally sa i conflici quando con tutti altri che oggi siamo un terzo tipo di servizio che è quello che ces� delle strutture perché dove omirano sempre 어�note Questi gli altri tipi di sacrificio per noi è totalmente incomprensibile. Cioè nel senso che è come una stella, in cui Dio non entra, che non può entrare, che non può entrare. Può entrare su tanto Dio per riproposire, se c'è qualcuno che ripropone il sacrificio di Cristo. Cioè questo terzo sacrificio non si combatta, come si vede, se non lasciando entrare nuovamente Cristo nella vita. Perché questo accade, è necessario ripensare, come dicevi tu, a Giobbe, ad Abramo. Cioè, aprire un varco, questo, però, non è possibile, se abbiamo un'idea della vita come qualcosa che si realizza totalmente qui. che è qui. Cioè il nostro senso religioso, ci porta a capire, a percepire che la vita ha qualcosa di transitorio. perché nella vita è molto semplice. Perché se c'è l'idea che la vita si realizza totalmente qui, se la vita è totalmente immanente, è molto facile pensare che io vi posso immuare e uccidere tutto questo tempo. cioè, è esattamente l'idea di una fine, di tutto. Cioè, quello che diceva dell'insegnante, in un certo senso, che pensa che il testo che lui ha spiegato è tutto qui, la vita è tutto qui, il mondo è tutto qui. Quindi, volevo chiederti a te, perché, quanto sia importante leggere l'autore, l'autore Dostoevsky, perché ci comunica questa idea di una, diciamo, transitorietà per un comunità tanti uomini. Perché questa è la premessa fondamentale, perché io posso anche sacrificare me perché qualcun altro viva, altrimenti che c'è il suo reso. ma è una domanda, una affermazione. È un ringraziamento. È un ringraziamento. Grazie. Io vorrei dire una cosa su questo terzo tipo di sacrificio di sé. Perché, certo, è assolutamente fondamentale, che ci venga ricordata di questa esistenza molto più grande rispetto a quella che si compie dentro i confini del nostro qui e ora. Ma questo terzo tipo di sacrificio non è affatto legato all'idea che non ci sia niente oltre. perché se parliamo dell'Islam, per quello che posso dire io su quella religione, senza esserne parte, cioè senza appartenere a quella religione, è necessaria una parola, cioè, capite che sto dicendo una cosa fondamentale quando dico io dal di fuori, perché se io ne parlo dal di fuori, ne parlo come uno, che ci sono cose che non puoi vedere, che c'è molto che non puoi vedere di quello di cui sta parlando. Ma per quello che posso vedere io... l'Islam non è mai stata una religione di un mondo chiuso qua. L'Islam è proprio la religione di una esistenza dopo la morte. solo che l'idea di questo tipo di esistenza dopo la morte è molto diversa nella percezione che hanno i mistici dell'Islam, che si chiamano Sufi, da quelli che invece compiono questi atti terroristici. Cioè, questi terroristi semplicemente sanno questo, che loro sacrificano se stessi, unicci, distruggendo, annientando questi infedeli, perché perché così difendono i fedeli e coloro che sono graditi a Dio, e per questo si ottengono la vita piena, che non hanno mai avuto la piena vita paradisiaca, E che sanno che, facendo così, in ricompensa, riceveranno quella piena vita paradisiaca che qua, sulla terra, non hanno mai avuto. quello che loro capiscono, che c'è dietro questa immagine del paradiso musulmano, quello che loro è promesso là, nel paradiso, è la vita terrena normale. Una vita terrena normale. dove ci sia sempre il cibo, dove ci sia sempre da bere, il sole ma anche l'ombra, la чистa vada, l'acqua pura, e delle montagne bellissime. Ah, e delle belle, grazie, delle bellissime donne. Grazie. Grazie a voi. Cioè, loro muoiono, con la speranza di avere finalmente una vita normale. che cosa ancora rende possibile questa forma di sacrificio di sé? e, ripeto, per quello che capisco io, l'assenza nell'Islam di questo livello del livello della persona, della personalità come valore. Cioè, la stirpe ha un valore. Cioè, la stirpe ha un valore. ma anche per garantire, in questo modo, una vita normale e felice alla sua stirpe. Cioè, noi, primitivizzando molto la situazione, penseremmo? Ah, saremmo molto primitivi, renderemmo molto primitiva la situazione se pensassimo che? se diciamo che se pensate che non mi sono morti così che si muoiono così che si muoiono così, compiendere un sacrificio così per avere questa vita che c'è solo qua. Loro lo fanno in modo molto cosciente per questa vita futura loro e per la vita della stirpe. Cioè è tutto molto peggio di quello che noi primitivamente pensiamo. E penso che l'unica possibilità per noi di opporci a tutto ciò realmente è quella di distruggere la convinzione di queste persone nel fatto che le persone che loro distruggono, annientano, per ottenere questa loro futura vita paradisiaca e la vita futura della stirpe non siano persone, non siano esseri umani perché loro quando vanno a distruggere così vanno a distruggere non degli uomini, non delle persone ma dei nemici. E il nemico è colui che è sempre disumanizzato. La prima cosa che bisogna fare con un nemico per riuscire a ucciderlo è spiegarsi che quello per una o l'altra persona non è non è una persona, non è un uomo. In questo caso il terrorista va a uccidere un infedele. Cioè è proprio quelli che non hanno nessuna possibilità di vita dopo la morte. noi siamo quelli che non hanno niente di umano per loro. Quindi abbiamo due possibilità. Oltre a far fuori tutto con bombardamenti a tappeto. Perché qualsiasi ragazzino che sopravviva continuerà questa guerra contro di noi. oppure trovare il modo di dimostrare a chi sta venendo a ucciderti che tu sei un uomo. Che tu sei un essere umano. Per questo io penso che adesso sia importantissimo un dialogo costante con il mondo islamico. Perché non c'è data nessun'altra possibilità. Cioè l'uomo non è data nessun'altra possibilità tranne la parola. Cioè l'uomo non è data nessun'altra possibilità. Cioè l'uomo non è data nessun'altra possibilità. Cioè l'uomo non è data nessun'altra possibilità. E invece è proprio qualcosa che non si vedrà da nessun'altra prospettiva. Grazie mille. Ma io ho davvero paura di dirlo. Proprio per la ragione di cui tu hai parlato all'inizio. Cioè proprio perché io ho paura di associare il mio parere, la mia opinione con me stesso. Di identificarmi con la mia opinione. Quando tu hai parlato del libro di Giobbe. Io ho pensato che la storia del tradimento può essere ancora più profonda. Perché nell'epilogo del libro di Giobbe. Mi sembra che in modo invisibile sia presente quello che è presente anche nel prologo. E che il discorso di Dio rivolto a Giobbe dove eri tu mentre io creavo. Può essere rivolto non solo a Giobbe. E questo significa? Che quella profondità di tradimento che Dio può perdonare può essere ancora più profonda di quella umana. Grazie, mi sembra che è una cosa assolutamente stupenda. E quindi la domanda che io volevo fare? In che cosa consiste il tuo rischio? Quando inizia adesso a parlare di delitto e castigo? Che cosa tu rischi? Ah. Non so se ho capito giusto la domanda. Cioè tu vuoi dire? Quali sono i tuoi punti ciechi? Qual è il punto che tu... Io penso che... Penso che possono venire fuori molti punti ciechi. Sì. Perché io ho già attraversato una situazione. in cui? In cui? In cui? In cui? In cui? In cui? No, in cui? In cui? che non penso che possa accadere qualcosa per cui così tanto mi trovo a andare fuori anche se capita di tutto io piuttosto guardo quello che abbiamo davanti come alla possibilità di un'avventura estremamente interessante perché a me sembra di aver già fatto avanti e indietro studiato tutto il testo diritto e castigo e ho l'impressione che più o meno tutto dovrebbe essersi formato ma io mi rendo conto io questo l'ho fatto dal mio punto di vista e come accade sempre durante le nostre scuole estive a un certo punto mi sarà fatta una domanda e non una sola che mi spalancherà una regione intera di una cosa nuova che non ho vista e che dirò oh mamma mia com'è possibile è vero e com'è che prima non l'avevo visto tutto questo e poi c'è ancora un'altra cosa perché sono molto importanti le domande? perché come ha detto un insegnante in una situazione simile senza le vostre domande io non conosco metà delle risposte perché anche soltanto la semplice domanda gira rivolge, svolge il testo rispetto al mio punto di vista in tal modo in cui io non l'avrei mai rivolto per me stessa cioè a me da qua sembrerebbe che quella sia una regione di qualcosa di evidente qualcosa che io vedo di evidente mentre quando quella regione che a me sembra evidente viene problematizzata si emerge in una luce completamente nuova, diversa e allora quello che a te sembrava essere evidente diventa interessantissimo io non so se risposto prima cosa se magari puoi riprecisare il compito per il seminario prima domanda, domande 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 non c'è in un senso privato perché domande domande è il tuo domande che vi preparate durante il giorno allora di per sé, come intendiamo di solito il compito specifico per il seminario per domande non c'è perché il compito per domande è quello che era il compito vostro per di preparazione alla scuola cioè la lettura e rilettura del testo perché prima di iniziare a parlare a fare la lezione su delitto e castigo voglio sentire le vostre impressioni, quello che potete dire voi sulla concezione che vi siete fatti di delitto e castigo cioè dobbiamo domande definire insieme qual è il punto da cui partiamo nella nostra analisi ma è chiaro a tutti cos'è allora il compito per domande per chiarire qual è la concezione che vi siete fatti che vi siete fatti di delitto leggendo dovrete andare a rivedere quei punti che ne fanno parte a questo riguardo volevo fare questa nota che appunto ci saranno dei tempi destinati allo studio e alla rilettura in realtà questi momenti sono fondamentali perché il seminario sia un effettivo seminario quindi anche se il ritmo vi rendete conto subito è molto impegnativo è russo come ritmo però insomma guardate a chi è sopravvissuto alle predizioni precedenti ed è tornato che vuol dire che una qualche convenienza ci sarà pure d'altra parte è difficile avere del tempo lo sappiamo tutti cioè uno si propone sempre cose grandiose però è difficile avere del tempo veramente dedicato alla rilettura allo studio magari di cose che uno non deve immediatamente utilizzare per l'indomani quindi io vi prego provate a prendersi serio questo suggerimento i posti dove poter andare appunto a rileggere e studiare sono tanti guardatevi in giro perché ci sono i tavoli qua davanti c'è il terrazzo ci sono i tavoli attorno alla piscina c'è quello spazio delizioso adesso non vorrei dirvelo perché speravo che nessuno lo vedesse ma visto che la dirvelo scendendo giù di sotto da quella scaletta di legno c'è un terrazzino erboso con una palaustra e ci sono tre tavolini con la vista montagna che è bellissimo e poi non può stare in stanze dove volete alcuni avvisi per i prossimi giorni Laura che è la nostra segretaria allora stasera la cena è alle 7.30 per chi per notte in albergo la cena è inclusa per chi non dorme in albergo è possibile comunque cenare qui ma bisogna assolutamente dirlo subito alla reception e poi saldare il conto subito dopo la cena questa sera è libera appunto per lo studio individuale e secondo il metodo proposto domani la colazione è dalle 7.30 alle 9.30 per chi per notte in albergo la mattina è libera sempre per lo studio e alle 12 ci troviamo qua per il seminario 11.30 alle 11.30 ci vediamo qui per il seminario ci vediamo qui per il seminario 11.30 dopo di che ci sarà il pranzo è possibile pranzare in albergo con le stesse modalità quindi anche chi per notte in albergo non avendo il pranzo incluso deve comunicarlo alla reception e dopo il pranzo saldare ok l'ultima cosa subito dopo questo incontro quindi appena usciamo vi aspetto nella terrazza qua sulla destra per la registrazione la consegna del programma e lì troverete anche dei libri della professoressa Casalchina che potete guardare e anche acquistare e anche dei libri che potete acquistare ma scusa laura lì lì